Il passato è vissuto, il presente lo vivi, il futuro scoprilo con me. Quando pensi che tutto sia finito, che la tua vita non ha più senso, è proprio quello il momento di ricominciare. Non abbiate paura della vita, credete invece che la vita sia degna di essere vissuta. Giuseppe Milone, dottore in scienze occulte, astrologo e cartomante, conoscitore delle più antiche formule di magia bianca, rossa e nera. Io, dottor Giuseppe Milone, astrologo cartomante, posso aiutarti solo se tu lo vorrai, non arrenderti. Con le mie carte e la mia conoscenza dell'occulto saprò indicarti la strada da seguire. Per appuntamento o consulti, anche a domicilio, massima riservatezza e discrezione. Contattami al 340-1170-466 oppure al 339-1933-604. Una telefonata può cambiarti la vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.